Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Uesa Channel. Oggi ci occupiamo del rapporto fra Facebook e la democrazia e lo facciamo come al solito per la serie Il rovescio della medaglia con Barbaroffa da due punti di vista opposti o comunque polari, li potremmo definire così. Insieme a questo è uscito infatti sul canale di Barbaroffa il video Facebook come risorsa per la democrazia. Lascio a lui questa metà, io mi prendo Facebook come minaccia pur riconoscendo che la sua parte ha tantissimi argomenti, sono sicuro che lui ne troverà tanti di interessanti, molti li ho spesso sviluppati su questo canale dove ho sempre considerato internet e social network comunque in modo positivo come veicoli per la libertà di espressione, per il confronto, per la discussione pubblica, per la diffusione delle informazioni e della conoscenza, oltre che per lo sviluppo dell'impresa e dell'imprenditoria personale, tuttavia ci sono dei problemi, non possiamo fare finta che non ce ne siano. Facebook nello specifico per prima ne è consapevole, vedi articolo che vi metto in descrizione di The Verge dove Facebook stessa riconosce problemi molto grossi come l'ingerenza di alcuni paesi nelle politiche di altri paesi attraverso il social network e quindi l'uso di tutte le dinamiche di targettizzazione e quant'altro, il fatto che eventi violenti del mondo reale siano stati organizzati e abbiano avuto i natali su Facebook, potremmo dire così, e il fatto che molti partiti politici facciano propaganda violenta in varie parti del mondo e ci stiamo riferendo attraverso i social network, insomma andatevi a leggere l'articolo per ulteriore approfondimento. Questo che cosa vuol dire? Qual è il problema fra Facebook e la democrazia? Che cosa c'è che non va? Che cos'è che è andato storto? Se ripensiamo ai propositi di Zuckerberg per il 2018, combattere il linguaggio dell'odio e quant'altro, cos'è che è andato storto? Secondo me, questo è l'argomento che vi voglio proporre in questo video, il nocciolo è il sistema della viralità. Che cosa è virale? Che cosa non lo è? E quindi che cosa ha successo su Facebook in particolare, ma poi su internet in generale? E che cosa invece fa molta fatica e non viene incentivato? Ed è molto difficile pensare di riuscire ad incentivarlo. Prima di tutto dicotomia numero uno importantissima, testo breve, testo lungo. Un testo breve, che sia un'immagine, un meme, un post aforistico comunque molto corto e quant'altro, ha grossissime chance di andare forte e di essere molto diffuso rispetto ad un testo lungo, che sia qualcosa di più approfondito, di più argomentato, eccetera. Facebook e i social in generale premiano i testi brevi e i testi brevi sono testi sintetici, sono testi che fanno prima e che molto facilmente dimenticano di rendere conto di tutte le sfaccettature di un problema. Se devi mettere dei concetti, tanti concetti, in poco spazio, e il dono della sintesi è una cosa importantissima, ma gioco forza dovrai lasciare fuori alcune sfaccettature e dovrai, sarai diciamo così più facilmente portato a semplificazioni manichee che a volte possono essere dannose, buoni contro cattivi, bianco e nero e quant'altro. Quindi già soltanto per essere virale spesso un messaggio è tenuto ad avere delle semplificazioni. Ripeto, da un punto di vista della sintesi questo è importante e tutti siamo sempre tenuti a fare sintesi e in qualche modo speriamo che il nostro lettore sappia di che cosa stiamo parlando e ci conceda le inevitabili semplificazioni. Ma Facebook da questo punto di vista arriva facilmente al parossismo, arriva a messaggi troppo semplificati e troppo tagliati e sfaccettati con l'accetta, per così dire. Inoltre, che cosa funziona tantissimo? L'indignazione, la paura, l'odio, la meraviglia, lo stupore che vanno di pari passo con queste su Facebook viaggiano alla velocità della luce. La veridicità e l'accuratezza di un messaggio è qualcosa che sta per essere verificata a troppi click di distanza, perché sia consistente nell'essere applicata. E quindi ciò che conta è semplicemente la fruibilità e la velocità di diffusione. Questo fa sì che un messaggio falso e un messaggio vero facciano a gara a chi è più veloce con il falso che, giustamente non preoccupandosi di incrociare le fonti e quant'altro, ha un vantaggio competitivo incredibile. Il messaggio vero, se vuole fare a gara, dovrà anche lui scendere a quel compromesso. È un problema molto grosso, ma soprattutto è un problema grosso da un punto di vista non solo delle notizie false, ma delle notizie false legate all'odio. L'odio può essere l'odio razziale, l'odio di genere, l'odio nazionalistico e tutte le forme di odio che navigano velocissime su Facebook, dove il bias di conferma stravince la sua eterna lotta con il criterio di falsificazione, mentre la falsificazione richiede fatica. Il bias di conferma annulla l'attrito con cui le notizie si diffondono su Facebook. Ciascuno che cerca soltanto ciò che corrobori e condivide e mette like soltanto, evidentemente, a ciò che corrobori la sua visione di mondo, soprattutto se lo fa in modo molto veloce, molto forte da un punto di vista letteralmente retorico della propaganda, così da umiliare o da dare un grosso schiaffo morale a quelli che la pensano diversamente, anche perché su Facebook, dove molti hanno gli account legati alla loro reale persona, alla loro reale identità, la reputazione e l'impossibilità di ammettere di sbagliare sono dominanti e quindi ancora di più figuriamoci se le cose non si vanno ad inasprire e quindi l'odio per la parte avversa, la semplificazione in parti troppo frettolosamente separate le une dalle altre e messaggi spesso falsi o comunque non verificati e quant'altro, volano veramente veloci. In più c'è il fenomeno delle echo chamber per cui tendiamo a non avere idea in realtà di che cosa sta girando per la rete in questo momento, semplicemente perché noi non lo frequentiamo e non lo vediamo, mentre magari milioni di altre persone in questo momento stanno credendo a chissà che, e noi neppure neppure lo immaginiamo. E poi quando magari vediamo il telegiornale diciamo ma come è possibile che ci siano persone che credono a queste cose, come è possibile che questi messaggi aberranti si siano diffusi fino a questo punto? È possibile proprio perché hanno uno strumento formidabile da questo punto di vista. Il meccanismo della viralità cioè banalmente quello che fa sì che io condivida e metta mi piace a ciò che condivido nel senso ciò con cui sono d'accordo non fa altro che corroborare il bias di conferma. La ricerca di conferme è l'ignorare, il chiudere gli occhi su quello che smentisce la nostra visione del mondo. Questo è l'antidialogo, è l'antidemocrazia perché è l'antipartecipazione da un punto di vista del dibattito ma è la partecipazione da un punto di vista propagandistico. La cosa assolutamente buffa, potremmo quasi dire, di Facebook, dei social network e di internet in generale è che ogni persona si fa volano di una propaganda. Siamo tutti arruolati a seguire la nostra parrocchietta o le nostre tante parrocchiette nelle quali abbiamo imparato a credere in modo critico e combattiamo la loro battaglia svolgendo e ricoprendo un ruolo assolutamente importante quando facciamo una condivisione, quando mettiamo un like, facciamo un commento eccetera. Quindi c'è qualcosa di veramente intrinseco nella struttura dei social network che è preoccupante perché abbatte la possibilità del dialogo, abbatte la possibilità dell'approfondimento, abbatte la possibilità di esprimere e di indagare posizioni sfaccettate su temi assolutamente sfaccettati e problematici, la possibilità poi di riconoscere un errore non può esistere perché ci troviamo sempre ad essere fazione contro fazione, parrocchia contro parrocchia, campanile contro campanile, ditela come vi pare e questo è un problema che non so quale algoritmo, per fortuna non spetta a me trovarne uno altrimenti saremo ancora più nei guai di quanto siamo, non so quale algoritmo possa risolvere una cosa del genere. Immaginerei, ma ovviamente si parla di fantasie che non hanno nessuna possibilità di realizzarsi, ci vorrebbe un algoritmo che consentisse la condivisione di un testo soltanto se ci si è passati sopra tot minuti, che cavolo ne so io, oppure la condivisione di un articolo facebook solo se lo si è effettivamente cliccato e andato a leggere, sapete che si leggono solo i titoli, oppure qualcosa che favorisca i messaggi lunghi e complessi, ma anche qui vai a definire complessi, c'è da ridere rispetto a quelli corti, eppure è facebook ovviamente che avvantaggia ciò che va più veloce, quindi sono i video, i video brevi magari, sono le immagini, ciò che sta a un click di distanza, link a articolo molto lungo e molto interessante, o post lunghissimo interessantissimo, ha uno svantaggio competitivo che se facebook decidesse di avvantaggiare e di premiare, che cosa succederebbe a facebook stessa? Facebook stessa si è diffusa e ha avuto questo successo proprio per via di questo meccanismo così semplificatorio della comunicazione, ma ora si è scoperto che questo meccanismo ha degli effetti collaterali terrificanti, che ci portano a vedere le cose in bianco e nero, che ci portano a sentirci sempre emotivamente parte di una fazione per la quale dobbiamo spenderci come propagandisti e guerriglieri al tempo stesso, che ci porta a considerare l'altro un nemico, da schiacciare, da umiliare, da ridicolizzare, da sbeffeggiare con il meme più sagace del suo, e la democrazia dove è andata? Non c'è nulla di buono per la democrazia in tutto questo, perché non siamo, se facciamo così, non siamo più una cittadinanza che discute, non siamo più una cittadinanza che si informa, non siamo più una cittadinanza che indaga, che è una cosa importante, non siamo quindi più una cittadinanza che rappresenta già di per sé un potere di controllo, ma siamo delle marionette verso coloro che con grande abilità e magari un budget per le sponsorizzazioni e tutto quanto dei post eccetera, tessono i fili della comunicazione o comunque per quegli attori molto grossi che fanno propaganda, propaganda che non dobbiamo immaginare soltanto declinata in senso politico da questo punto di vista, quindi sono perplesso, sono molto scettico sul fatto che una soluzione esista, io non riesco ad immaginarla, ma questo non vuol dire che qualcun altro non possa farlo sviluppando algoritmi meravigliosi, ma a flaggare notizie per cui lo dico io se è attendibile oppure no, e allora immaginatevi le masse triggerate che andranno a dire che è inattendibile, una cosa che poi magari era attendibile, insomma ci siamo già capiti, censurare cose che si possono dire, cose che non si possono dire è un pendio scivolosissimo sul quale rischiamo davvero di inciampare, come si regola questa cosa, ognuno da per sé la regola in base al proprio buonsenso, ma rendiamoci conto di una cosa, nessuno di noi ha la possibilità di verificare tutte le notizie che leggiamo, nessuno di noi lo fa, e tutti noi, io e te che stai guardando questo video in questo momento, senza nessun dubbio adesso stiamo credendo e crediamo vere cose che non lo sono, ma è naturale che sia così, perché non tutto abbiamo verificato, la fiducia da come la vedo io dovrebbe andare verso gli esperti, verso le persone qualificate, una fiducia scettica ovviamente, una fiducia che chiede prove, ma che quando non può chiederle, se non altro, fa affidamento a chi ha una conoscenza tecnica sul campo e sulla specifica questione, sì certo che sì, ma abbiamo capito benissimo che le dinamiche in corso non sono assolutamente queste, e comunque non ho assolutamente dato una soluzione, non so quale sia la soluzione, non so se alla fine della fiera, questo mi spaventa ancora di più, se alla fine della fiera saremmo stati contenti di esserci dati questo meraviglioso strumento di libertà di espressione, confronto e trasmissione delle informazioni e della conoscenza, i pro e i contro sulla bilancia come saranno? Chi vince? A volte ho paura che vincano i contro, soprattutto quando vediamo che l'influenza sul mondo reale della violenza verbale è molto immediata, c'è quasi un cortocircuito, mentre invece l'influenza sul mondo reale del pensiero critico, del ragionamento comprensivo nei confronti della posizione opposta, dell'ammettere i torti, rimanere comunque sempre aperti alla possibilità di sbagliare merce, buone ragioni mostrate, non essere dogmatici, tutto questo sul mondo reale si riverbera fra vent'anni su venti persone in croce. Sono molto scettico su quanto potrà fare bene tutto ciò alla democrazia, proprio perché sappiamo che una cittadinanza imbonita, imbonita inconsapevolmente, altrimenti non sarebbe un imbonimento, non genera una democrazia, ma una tecnocrazia che imbastisce la democrazia come spettacolo teatrale al quale finiamo di credere con la nostra credulità. Quindi chissà, magari Zuckerberg trova la soluzione. Io vi ringrazio per aver seguito e ci vediamo al prossimo video.